Mattia Bastianelli al termine di una gara che la Juve Domo ha pareggiato con un gol subito nei minuti finali tanta rabbia, tanto rammarico e alla fine comunque è un punto in più guadagnato sulle seconde forse è il caso di guardare il bicchiere mezzo pieno come diceva il tuo direttore sportivo Massoni e valutare una prestazione che comunque non ha messo in mostra una grandissima qualità a Juve Domo si vede che ci sono delle difficoltà, sicuramente ha dimostrato un gran carattere questa squadra Sì, parto dall'inizio dicendo che per il gol preso negli ultimi minuti quello è un po' il rammarico che abbiamo perché stavamo portando a casa una partita che appunto dopo mezz'ora siamo andati sotto, anche lì secondo me immeritatamente però non ci siamo disuniti e abbiamo continuato comunque a giocare a cercare di portare superiorità anche nell'altra metà campo e abbiamo trovato il gol dell'1-1 sul rigore poi siamo andati in vantaggio con Fusco 2-1 e comunque come dicevi anche tu e come diceva il direttore alla fine sì guardiamo il bicchiere mezzo pieno perché con il Borgo Vercelli che hanno perso entrambe alla fine abbiamo comunque guadagnato un punto che in classifica vuol dire Anche perché mancano solo tre gare, i punti sono cinque e se il Borgo Vercelli avessero vinto due gare comunque la loro portata a questo punto stavamo parlando di una Juve Domo molto assediata dalle seconde Sì 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 ma le partite bisogna giocarle contro tutti e abbiamo visto in quest'ultimo periodo contro qualsiasi squadra che sia alta classifica o bassa classifica non ti lasciano niente nessuna quindi sono delle battaglie contro tutti e a noi non è che ci sta girando neanche tanto bene ultimamente però oggi se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno comunque abbiamo guardato un punto Mancano tre partite, due trasferte anche abbastanza insidiose a Biella e in Valle d'Aosta e poi la partita in casa con il Cerano che oggi indirettamente vi ha fatto un piacere battendo il Borgo Vercelli se anche non sono squadre di altissima classifica sono comunque squadre che possono dare fastidio Sì sì possono dare fastidio tutte quante già martedì 18 contro la Bielese sarà un'altra partita da soffrire tutti assieme perché comunque loro sono in una zona anche lì che ha ridosso dei playoff il Pondonna a Zanche e il Cerano ha battuto oggi la seconda in classifica quindi c'è da andare a giocare contro tutte e speriamo di portare comunque a casa più punti possibili che è la cosa più importante e come si è visto anche oggi è vero, dispiaciuti per questo pareggio arrivato alla fine ma comunque un punto in più cioè cinque punti e dura per tutti come dura per noi ma dura anche per gli altri Perché le energie sono sempre meno per tutti la stagione è stata lunga e faticosa Sì sì la stagione si è speso tanto si deve spendere ancora quell'ultima parte che ci manca per coronare il nostro obiettivo In bocca al lupo allora a te l'aiuto Crepe il lupo, grazie